Mi dispiace, stavolta Gabriella ha veramente passato il limite. Io non me ne starò a guardare il suo matrimonio. Julie dice che esagero. Voi non pensate che esageri, no? Sì, un cantino. Beh, l'ha chiesto. Senti, anche se Gabriella avesse torto, e lo ha, ha totalmente, orrendamente torto, boicotteresti il suo matrimonio? Ha detto che io potrei far rimpiangere a Mike il coma. Io credo che volesse dire, e di nuovo vorrei che si fosse espressa con un po' più di tatto, che il matrimonio è imprevedibile. Non lo sappiamo mai prima come sarà. Non difendere quella peste egocentrica. Ruba il matrimonio di Susan e si aspetta che rimangano amiche. Divorzia da Carlos e pretende che nessun altro lo frequenti. Non ho mai conosciuto nessuna disonesta ed egoista come lei. Ma è vero che Carlos è stato sfrattato? Sì, è stato un vero colpo. Comunque, mantieni la posizione e non andare al matrimonio. Potrebbe rovinare la vostra amicizia, sei disposta ad accettarlo? No, credo di no. Peccato. Beh, almeno falle un regalo più docchioso come un frullatore. Io a Natale ti ho regalato un frullatore. E non c'è giorno che io non lo usi. Devo andare. Allora, gente, ecco qui.